Sveglia, tesoro. Su con la vita. Tira giù dal letto con le chiappe. Vuoi cereali? E ti sei messo in testa. Trovatevi una camera da letto. Scusa. Mamma! Scappa! Nulla di tutto questo è reale. Nulla di tutto questo è reale. Tutti questi ricordi sono stati impressi. Il mio nome è Alice. Alice, che piacere vederti di nuovo. Cosa sta succedendo qui? Sei sotto il nostro controllo. Mi hanno usata per perfezionare il virus. Tutte le persone che ho conosciuto. E tutto quello che ho fatto. Viene usato contro di me. Ora possono manipolare il mondo. Abbiamo conquistato New York, Mosca, Tokyo. Questa è l'ultima resistenza dell'umanità. L'inizio della fine. Io ti ammazzo. Buona fortuna. Ne avrai bisogno. L'Umbrella è più potente che mai. E noi siamo gli unici che possono fermarla. Ciao, stai aspettando un invito scritto? Bella macchina. Ciao, stai aspettando un'imitiva. Ciao, stai aspettando un'imitiva. Buona fortuna. Buona fortuna. Grazie.